Noi ora abbiamo possibilità, qualora dovessimo andare al governo, e qua lo devono decidere gli italiani, che lo dico sempre, si devono pure assumere una responsabilità, perché se dopo vent'anni di Berlusconi e anni di Renzi, se questi anni non sono bastati per far capire agli italiani la pericolosità di certi soggetti, il problema per me non so più Renzi e Berlusconi, sono gli italiani. Questo è il problema.